In occasione delle festività pasquali e soprattutto delle gite fuori porta della Pasquetta, i carabinieri della Compagnia di Seracusa, al fine di prevenire e reprimere le infrazioni al codice della strada, hanno effettuato intensi controlli alla circolazione stradale in tutto il territorio provinciale. Il mirato servizio dell'arma a retusea ha visto impiegate otto battuglie automontate nell'esplodamento di controlli alla circolazione stradale, finalizzati al contrasto delle violazioni del codice della strada, con particolare riguardo alla guida sotto l'influenza dell'alcol e alla guida di motocicli senza casco. Entrambi i fenomeni vedono interessati soprattutto i più giovani alla guida, che possono avere conseguenze drammatiche sia per loro stessi che per gli altri utenti della strada. Nella giornata di Pasquetta in particolare, le otto battuglie dei carabinieri della Compagnia di Seracusa, attraverso mirati posti di controllo alla circolazione stradale, effettuati in coincidenza delle principali arterie stradali che consentono l'accesso al capologo a retuseo, hanno proceduto all'attento controllo di oltre 149 veicoli, constatando sanzioni al codice della strada per sopparso in corrispondenza della doppia linea continua, mancato rispetto del semaforo rosso, mancato utilizzo del casco e mancata copertura assicurativa con il relativo sequestro delle autovetture. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli oggi è stato in visita presso la Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Augusta. A conclusione del suo intervento, fatto alla presenza di autorità civili e militari, ha avuto anche un incontro con i giornalisti locali. Grande piacere per me essere qua stamattina, vi saluto con grande affetto, voi sapete che da quando sono al ministero una delle cose a cui tengo particolarmente è incontrare tutto il personale che dipende dal ministero da cui passa il 40%, ricordiamocelo sempre, degli investimenti pubblici, di soldi pubblici, di contributi italiani e voi siete una parte importante di quello che è tutto il nostro ministero. Operate in tanti settori, a partire da quello della sicurezza in mare, a partire quello della legalità e arrivare fino a quello del rispetto per l'ambiente. Io ricordo perfettamente tra i tanti interventi che ho avuto l'onore di fare in Parlamento, quell'intervento in cui parlando proprio della Guardia Costiera delle Caponerie di Porto, l'intero Parlamento applaudì, applaudì a quello che rappresentate, il senso dello Stato, il senso del rispetto delle istituzioni, del voler lavorare nell'interesse nazionale. Quindi io vi dico andate avanti così, la vostra divisa rappresenta l'Italia intera, avete dalla vostra parte non solo il governo ma tutti gli italiani e credetemi che in tutti i territori che vado a visitare in Italia c'è una grandissima ammirazione nei vostri confronti. A conclusione del suo intervento, fatto alla presenza di autorità civili e militari, ha avuto anche un incontro con i giornalisti locali. Mese scorso le strade, oggi i porti, anche se poi si occuperà anche di strade in questa visita. Sì esatto, come potrete ben immaginare, essendo la quarta visita del sottoscritto in Sicilia in poco più di dieci mesi, significa centralità della Sicilia. Oggi si arriva in Sicilia, il numero dei passeggeri del trasporto aereo sta aumentando, però una volta sbarcati ci sono problematiche infrastrutturali, non ci sono interconnessioni, non c'è intermodalità. Quindi dobbiamo ragionare molto di più, sufficientare tutti i sistemi di trasporto, ovviamente senza mai dimenticare l'economia portuale, perché solo così riusciamo a cogliere l'opportunità soprattutto turistica e quindi di sviluppo che la Sicilia ha, ma che lasciatevelo dire non ha ancora colto. Ministro, scusi, novità sulla Ragusa-Catania, se l'attendano in molti i sindaci delle aree interessate, ma anche i cittadini? Sì, l'attendo anche io, non vi nascondo perché è uno dei dossier tra i tanti che ho gestito sempre in prima persona. Noi la vogliamo fare, come ben sapete, ma non semplicemente per costruire un cantiere e poi creare un'infrastruttura che non viene utilizzata perché per poche decine di chilometri magari costa 15 o 20 Euro. La vogliamo fare per che venga utilizzata e possa costare quei 3 o 4 Euro che sappiamo essere sostenibili per chi vuole spostarsi. Penso che siamo ad un buon punto, un bel passo avanti, c'è una costante interlocuzione, non diciamo troppo, perché io ho imparato a dire quando abbiamo concluso il dossier, ma dei passi avanti si sono fatti. Avrete visto che nell'ultimo Cipe di poche settimane fa è stata ribadita l'importanza strategica, centrale di questa infrastruttura che rimane tale, ci sarà un Cipe nel mese di maggio, incrociamo le dita, speriamo che approdi il progetto. Ecco, Ministro, a Lendini abbiamo il più grande lago d'Europa, il lago di Lendini. Ci sono novità su questo caso oppure ci sono investimenti da fare oppure resta tutto come tutto il uso è inutilizzabile. Guardi, il fatto che sia costantemente presente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e anche, ho incontrato poco fa all'aeroporto di Catania il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, significa che c'è attenzione. Ricordatevi una cosa, ricordatevi che siete una regione speciale, che tantissime competenze sono in mano alla regione Sicilia e vi volevo dare un dato che da cittadino italiano trovo sconcertante per il senso di fallimento che rappresenta. Ci sono circa 400, forse nello specifico 440 milioni di Euro di fondi pubblici, fondi sviluppo e coesione stanziati per la Sicilia, di questi solo una minima parte sono stati utilizzati. ed è il fallimento di uno Stato e di un'amministrazione pubblica proprio quello in cui soldi li ha ma non è capace di impegnarli. Siamo qui con un totale spirito collaborativo, nonostante gli attacchi purtroppo frequenti che riceviamo dall'amministrazione siciliana, per dare una manio ai siciliani, di cui fa parte anche il Presidente Musumeci. Il Consiglio Comunale di Lentini è stato confocato per le ore 19.30 del 29 aprile prossimo nei locali della Sala Consiliare di Via Galliano. Sei gli argomenti messi all'ordine del giorno, tra cui il regolamento dei tanti principi per la istituzione e regolamentazione di aree di sosta destinati alle operazioni di carico e scarico merci nel centro abitato. Revoca deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 del 27 ottobre del 2016 e adesione alla CUCU, istituita dal Consorzio Tireno Eco Sviluppo 2000, società consortile a responsabilità limitata. Approvazione, convenzione e regolamento di adesione. E ancora una interrogazione presentata dalla Consigliera Maria Cunzolo del Movimento 5 Stelle su finanziamenti Istituto Vittorio Veneto di Lentini. Nella scaletta anche l'interrogazione presentata dal Consigliere Comunale Giuseppe Santocono in merito ai lavori di pavimentazione di Via Garibaldi, primo e secondo appalto. Nello Bongiovanni, in qualità di capogruppo della Lega per Salvini Premier, nel Consiglio Comunale di Cassaro, ha chiesto al Sindaco del Comune di Cassaro e al Presidente del Consiglio Comunale la confocazione di un Consiglio Comunale per affrontare il problema della chiusura dell'Asilo Unito. I carabinieri della stazione di Francofonte arrestano un cittadino di origine romena. L'uomo è stato trovato in stato di ebbrezza e dovrà rispondere anche di oltraggio, resistenza e rifiuto di declinare le generalità. L'uomo, raggiunto dai militari della stazione di Francofonte, si rifiutava di declinare le proprie generalità, tentando più volte, fortunatamente in vano, di avvendarsi contro i militari, mentre teneva tra le mani una bottiglia di birra, ormai vuota. Accompagnato in caserma, il cittadino romeno veniva raggiunto dalla consorte, la quale produceva documenti del congiunto, che veniva quindi compiutamente identificato nel pregiudicato di Marini Radu, di 34 anni, braccianti agricolo residenti a Francofonte. Marini Radu quindi è stato dichiarato in arresto per le violazioni penali commesse, su disposizione del Pubblico Ministero di Turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.